strumenti finanziari per le pmi e liberi professionisti se ne parlato al convegno organizzato tra gli altri da conf commercio bari confidi conf commercio puglia ordine dei commercialisti e regione puglia il problema è sempre quello aumentare la competitività delle piccole e medie imprese pugliesi perché come fa notare il presidente di conf commercio alessandro ambrosi l'ostacolo è rappresentato da garanzie che le banche vogliono e che spesso le aziende piccole medie non riescono a dare ma soprattutto l'accessibilità al credito in generale c'è ormai c'è una chiusura da parte del sistema bancario nei confronti delle piccole aziende non lo dico io lo dice la banca d'italia se vedete i report di chiusura della banca d'italia capite come la il credito la concessione del credito in tutto il sud è nettamente inferiore non si capisce perché al rispetto al resto d'italia oltretutto a costi decisamente diversi i convegni come questo hanno lo scopo di far conoscere che per fortuna insieme alla regione che ha fatto una parte veramente di primo piano e molto molto lungimirante le associazioni di categoria hanno messo su degli strumenti finanziari che si chiamano cofidi che in qualche modo garantiscono insieme all'azienda nei confronti della banca per fortuna esistono degli strumenti finanziari e dei soggetti in grado di favorire l'accesso al credito di solito le banche tendono ad agevolare i finanziamenti solo ed esclusivamente nei confronti delle grosse imprese delle grandi imprese le piccole e medie imprese invece hanno grossa difficoltà i confini si mettono tra si mettono proprio come facilitatori nell'accesso al credito quindi sia come supporto nell'agevolare le istruzioni delle pratiche facendo in modo che non solo prestano una garanzia ma nel momento in cui gli istituti bancari vanno a deliberare si trovano di fronte a un lavoro già svolto dal confini.